Siamo un po' tutte tristi e dispiaciuti, però allo stesso tempo siamo felici per aver ripreso il nostro gioco, che avevamo perso nelle ultime partite e mentalmente penso che ora siamo pronte ad affrontare Cassano e le altre partite che ci aspettano. Puntavamo molto per fare una partita buona e siamo soddisfatte, però allo stesso tempo eravamo molto vicini alla vittoria, quindi ora cercheremo di capire qual è stato il vero motivo di questa partita persa. Che idea ti sei fatta di questo campionato 2016-2017? Io penso che è un campionato molto bello, perché anche le prime squadre, le prime in classifica, le possiamo mettere in crisi, anche se noi siamo state appena neopromosse. Abbiamo conquistato tre punti importanti, le nostre avversari sono state veramente bravissime, e noi abbiamo peccato molto in difesa, però alla fine siamo riusciti a superare anche questo di ostacolo. È veramente veramente equilibrato quest'anno, infatti non si saprà fino all'ultimo chi arriverà all'obiettivo play-off e speriamo di esserci tra le squadre prescelte e continueremo ad andare avanti così impegnandoci sempre in ogni partita, perché abbiamo scoperto qui che sono tutte molto molto importanti. Grazie a tutti.